Ciao ragazzi, sono qui in compagnia di Miss Sublog, una new entry su YouTube. Allora, anche Mr. Giuseppe Madero è in vacanza, non vi dico dove perché... Meglio non saperlo. Meglio non saperlo, comunque è sempre in Puglia. Allora, questo video va raccaricato anche sul canale di Sabrina, il suo nome è Sabrina. Allora, cosa ci racconti, come è andata quest'estate? No comment, ha passato tutta l'estate a studiare, e io a lavorare. Due sfigati in realtà. In realtà io non sto in vacanza, questa è una domenica qualsiasi e sono venuto al mare. Altri YouTuber fanno i video in piscina, io... Abbiamo deciso di scegliere una spiaggia fantastica. Siamo fantastica, comunque siamo un po' così. Siamo un po' storti, perché stiamo facendo questo video? Diciamo che è il mio primo vlog e in realtà non so cosa dire. Ringo! Vabbè, diciamo che io ho avuto un po' più di tempo. Diciamo, io sto facendo un brutta figura al lato, sono bianchissimo. Infatti si vede, sono sempre a lavorare. Comunque vi svegliamo il segreto, siamo a Porta Cerva! No, vabbè dai, svegliamo il posto, siamo tra Margherita e Zapponeta. Dov'è Margherita? In Puglia, Margherita di Savoia. Cercatelo, un posto fantastico. Dov'è la Puglia? In Italia comunque. Sì, sì. Io sono italo-pugliese, anche lei. No, io un po' brasiliera. No, vabbè. Lei è anche un po' di Milano, non si sente l'accento. Sì, no, è molto... È nulla. È nulla. Ok, credo che sia abbastanza, eh? Abbiamo detto fin troppe cazzate, troppe cose inutili. Questo è un video inutile. E noi siamo due persone inutili. Vabbè, da Porta Cervo, vai, vai Margherita di Savoia. Da Porta Cervo dei poveri è tutto. Da Porta Cervo dei poveri è tutto. Possiamo... Anche salutarvi. Anche salutarci. Ciao. Ciao. Comunque, iscrivetevi al suo canale. Non ha caricato nessun video. Qui troverete il link... Qui, eh? Cliccate. Il link del suo canale. Non troverete niente. Magari forse questo video in futuro, non lo so. No, questo perché lo caricherà lui per me. Lo caricherò io e lei lo metterà tra i percheriti. Voi visualizzate me e visualizzate lui. Se vi è piaciuto questo video, cioè se... Per lei mettete mi piace, per me mettete non mi piace, quello che volete fare. No, no, vi piace. Mettete mi piace. Se vi piace questa ragazza, mettete mi piace. Per me, vabbè, non c'è problema. Insomma, io non voglio salutarla. Se lo diciamo... Io non parlo mai nei video, quindi talmente è un po' strano parlare qui sotto al sole. Che dici, chiudiamo? Chiudiamo? Sì, chiudiamo. Chiudiamo. D'accordo. Sì. Allora... Ciao. Praticamente ci stanno guardando tutti. Sì. Sì. Siamo andati lontano dai nostri parenti, lontano dai nostri parenti, perché possono pensare che questi sono matti, siamo in vacanza. Sì, basta. In vacanza, buongiorno, 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 buongiorno. E... Stai durando il giatto, un po' giusto lì. A presto. Ciao. Ciao. A presto con i prossimi video. E l'iscrizione è qui. Missa Blog, mi raccomando. Mister José Madero. Ciao.